Siamo in compagnia del professor Capalbo che sicuramente ha già visitato la mostra dedicata con un interprete d'eccezione, la nostra Martina Goyens e allora intanto a lei voglio chiedere le prime impressioni su vele regate, su questo mare imperante in queste tele L'impressione è ottima, Martina Goyens, spero di non rovinare il nome, ha fatto delle cose eccellenti a me piacciono, piace questo genere di pittura quindi non posso che apprezzarla Lei ha una qualche preferenza quando parliamo di arte nei confronti dei generi? Non soltanto quindi pittura, arte in generale, poesia, musica, scultura, quali sono le sue predilezioni in tema artistico? I classici, noi viviamo nella patria delle grandi opere d'arte Peccato che non lasciamo che si apprezzino più di tanto Io sono molto d'accordo con mio amico Vittorio Sgarbi in quanto dice che non sono sufficientemente valorizzate le cose che produciamo Intubbiamente i nuovi talenti che si ispirano alla nostra pittura, alla nostra arte in generale classica e ne traggono grossi benefici perché hanno delle fonti a cui poter attingere per esprimere il loro talento Del resto ha detto bene professore, l'unico che anche a mezzo del servizio pubblico parla d'arte E' proprio Vittorio Sgarbi al quale virus, il contagio buono, ha ceduto parte del suo percorso giornalistico Come mai se ne parla così poco secondo lei in televisione in particolare? Perché il servizio pubblico non se ne occupa? Di che di Vittorio? No, dell'arte Ha dell'arte? Ebbè, nemo profetto in patria Ecco, quindi noi siamo tutto sommato un popolo di autolesionisti che apprezziamo a posteriore quelli che sono i nostri patrimoni e le cose più belle Non a caso l'Italia e la patria, l'Italia in generale, Roma in particolare è la patria della maggior parte delle opere d'arte esistenti al mondo Questo dovrebbe fare di questo nostro patrimonio un motivo di grande richiamo Invece strutturalmente, qui ritorno a Sgarbi, ma non solo a lui Non siamo organizzati a sufficienza perché solo da questo se ne potrebbero trarre benefici economici Se poi poco poco decidessimo di far girare un po' di più le nostre opere anziché tenerle sepolte nei sotterranei dei vari musei perché quello che si vede è una minima parte rispetto a quello che invece potrebbe essere ammirata, apprezzata e valorizzata Grazie, concordiamo pienamente con la tesi che lei ci ha esposto ai video ascoltatori di Liberi TV le sono grati